Avere dei PDTA, i percorsi diagnostici e terapeutici assistenziali uniformi in tutta la regione consentirebbe ai cittadini di poter usufruire di una omogenità di trattamento su tutta la rete nazionale. E' il messaggio che giunge dal ventunesimo convegno del gruppo Apulo di Otorino-Laringoiatria organizzato a Barletta presso la Sala Rossa del Castello. L'incontro, suddiviso in due giornate, rappresenta un'occasione di confronto fra esperti del settore su di una tematica di stretta attualità. Questa associazione raggruppa gli otorini di Puglia e Basilicata voluti dal professor Cervellera. L'argomento di quest'anno è interessantissimo attualmente e nel futuro di quelli che sono i sistemi organizzativi della regione Puglia perché avere dei PDTA, dei piani terapeutici territoriali e aziendali uniformi in tutta la regione consentirebbe ai cittadini di avere una uniformità di trattamento su tutta la rete nazionale. Con dei protocolli prestabiliti, con delle linee guida diagnostiche terapeutiche ben determinate e per migliorare fondamentalmente la qualità della prestazione sia diagnostica che assistenziale, che chirurgica. Il ventunesimo convegno GAO, un momento utile per riflettere sulle migliorie da dover apportare a beneficio della sanità pugliese. Cosa c'è da migliorare nella sanità pugliese? C'è da migliorare nella sanità di ottimizzare le risorse. Si devono ottimizzare le risorse in tutto conto che nelle risorse non è solo la risorsa tecnologica, la risorsa umana è fondamentale. Quindi la formazione è essenziale, una formazione che deve coinvolgere essenzialmente tutti gli operatori della sanità, medici, tecnici, infermieri, perché la sanità, come sempre dico, è un gioco di squadra. Il gioco di squadra, se non è completo e uniforme, ci porta alla sconfitta. Se io ho un sistema che deve essere trainato e ho un anello robusto della catena, è ovvio che l'anello robusto resiste, ma l'anello debole si rompe e si rompe la catena. Quindi è fondamentale avere un'omogeneità di trattamento e di formazione di tutti gli operatori, nessuno escluso, da chi risponde a telefono, da chi dirige una struttura.